Ciao a tutti, io sono Serena Maccialotte e questa è Popcorn, la news da leccarsi le dita. Luca Comics si avvicina sempre di più e ieri è stato finalmente annunciato il programma. Per quanto riguarda l'area movie, sarà proiettato in anteprima Snoopy and Friends, il film sui Peanuts che uscirà in Italia il 5 novembre. Potremmo assistere anche ad altre importanti anteprime come Tales of Halloween, Una tomba per le lucciole, Legend, Piccolo Principe, The Boy and the Beast e molte molte altre. Saranno anche presentate le prime immagini del nuovo film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. Per le serie TV invece Fox presenterà in anteprima mondiale il quarto episodio della sesta serie di The Walking Dead. Ci saranno anche mostre molto interessanti come quelle dedicate ad Arrows a Batman nello stand di Warner Bros e i corner dedicati al trono di Spade e a Gomorra nello stand di Sky. Sky Cinema invece sarà presente con un allestimento a tema Star Wars. Ovviamente queste sono solo alcune delle novità presentate nel programma. Vi raccomando, leggete l'articolo del blog di Screen Week per saperne di più. Per oggi è tutto, ma per questa e altre croccanti notizie dal mondo del cinema iscrivetevi al canale e visitate www.screenweek.it